Ciao Volker, intanto come stai? Perché hai vissuto un lutto tremendo e quindi credo che anche lavorare in queste condizioni non so come tu ti senti, come tu riesci a farcela insomma. Per me è importante stare qua, allenarmi, stare con i compagni, provare a sorridere, a divertirmi perché quest'estate è stato veramente duro per me perché perdere la mamma così presto non è per niente facile. Ma questo è un aiuto per me, stare a casa a pensare non mi fa niente di buono, preferisco stare qua, allenarmi. Come se fosse una famiglia quella squadra. Ecco, la mia seconda famiglia, allora è meglio stare qua. Ciao Borca, due curiosità. Ti chiedo, tu hai detto che la società ha fatto tanto per rinforzare questa squadra. L'anno scorso hai visto il finale rocambolesco di campionato, è arrivato Mario Gomez, è arrivato Joachim. Te la senti di puntare una sticella, cioè nel senso l'obiettivo, molti hanno detto, è la Champions mancata l'anno scorso. Secondo te è quello o è ancora presto per fare certi tipi di valutazioni? Poni un'altra. Ancora presto secondo me per pensare in tutte queste cose. Il campionato è molto lungo anche se giochiamo l'Europa League, ancora più difficile perché io sono stato una squadra dove ho giocato in Europa League e poi il campionato è duro, è duro. E poi è vero che la società sta facendo tutto per portare i giocatori bravi e fare la squadra ancora meglio. Poi si deve vedere tutto questo in campo perché avere i giocatori bravi se poi non vinciamo è come non avere niente. Ma onestamente te vedi oggi una squadra, prova a metterti un atto, da uomo di calcio, una squadra che è sicuramente più forte della Fiorentina a parte la Juve? Difficile secondo me, mi piace essere calmo in questa situazione, è difficile parlare così, se lo vedi uomo a uomo la squadra forse è difficile trovare una migliore. Ma poi il calcio, per questo il calcio mi piace a tutto il mondo perché non si può sapere che cosa va a succedere. E speriamo che tutto questo entusiasmo che ha la gente, che abbiamo tutti di fare le cose bene, alla fine è perché lo facciamo e troviamo qualcosa di bene. Esiste secondo te in Italia una coppia di attacco più forte di Gomez e Pepito? Tante squadre che hanno attaccanti così forti, ma speriamo che alla fine la nostra può diventare quella che fa le cose migliori. Ma come ho detto non preferisco parlare di oggettivi in questo momento perché poi è un signo che porti tutto l'anno e quello non è buono per giocare tranquilli, liberi, come l'abbiamo fatto l'anno scorso. Sicuro che in questi giorni, l'anno scorso, nessuno pensava in quello che abbiamo fatto alla fine del campionato scorso. Allora dobbiamo stare tranquilli e pensare solo in questa partita di oggi che è anche importante per la preparazione. Un punto sul Madrid, sono state delle voci in questo calcio mercato, non solo da Madrid ma anche da Barcellona. Quanto potrà incidere nel caso, in futuro, l'affetto dei tifosi viola su una tua eventuale decisione, qualsiasi essa sia, e poi in un'altra piccolina? Tanto, 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 no? Io come ho detto tante volte di quando sono arrivato, mi ho trovato veramente bene qua, la gente mi vuole bene, quello per me è importantissimo e anche la mia famiglia sta contenta a Firenze, questo è un punto sempre a favore. Ma nel futuro mai si sa, non si può parlare del futuro, ma ho veramente le cose chiare. La maglietta che va molto in moda tra i tifosi è scritta sopra Keep Calm and Pass to Borca. Volevo sapere se te ce l'hai e che cosa vorresti scriverci se mai te sopra uno slogan. Non ce l'ho perché me l'hanno regalato un giorno dopo una partita al Franchi. e mi fa sorridere, è un piacere che la gente fa queste cose per me. E te, cosa vorresti scriverci? No, non pensare così va bene. Adesso invece la Spagna dilaga. In Italia il Napoli sta diventando abbastanza spagnolo. Ecco, cosa è cambiato? Cioè è cambiato secondo te il calcio italiano o è cambiato talmente il calcio spagnolo per cui gli spagnoli vanno bene anche qua? Grazie. Secondo me è un po' di tutto. È vero che quando vedi un giocatore farlo bene in Italia le altre squadre vedono che anche si può con altri giocatori. Ma anche il calcio italiano è cambiato abbastanza secondo me. Io sempre l'ho visto da lontano, non posso parlare giustamente di questo. E tutto favorisce anche che gli spagnoli lo fanno meglio qua in Italia. Ecco qua.